ciao oggi faremo un video bellissimo faremo il contrario di quello che avevamo appena fatto cioè abbiamo fatto le piccole sfidano le grandi mi dispiace piccole ma oggi le grandi sfidano le piccole ho detto giusto ok benissimo avete 30 secondi per decidere la prima sfida ovviamente le piccole sono letizia camilla martina irene e martina fatti tu passi con le grandi oggi o o sennò tra te la martina chi è la più grande scusa tu allora tu passi tra le grandi 30 secondi per la prima sfida sfiderò una di loro uguale chi con la staccata sagittale chi è più sciolta dobbiamo mettere il rialzo davanti sempre più alto e vediamo chi vince bellissimo vi piace perché ste sciolte anche voi eh vai allora partiamo vai giadi voi l'aiutate chi avete deciso di schierare camilla vai cami una da parte o dall'altra mi colto metti gli step va bene ok ma non insieme parte la giadi ok brava camilla brava allora vediamo mettetevi bene staccata con le braccia dietro a giada ok camilla camilla ok terzo step bravissima 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 fino a quando la gamba davanti tocca terra eh si giadi giadi perfetto brava 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 quinto step per ora siete pari eh si se ce la fai eh giadi ok vai camilla mamma mamma mia mamma mia camilla mamma mia mamma mia camilla no ma perché mi scivola il piede sopra sono un nana no no mi dispiace grazie ha vinto la squadra delle grandi 1 a 0 però brava eh prova il shock ha mo è però ti ho pericolato tutti l'amma ho pericolato le cose hai anche l'amma muovere vabbè brava marty vabbè dai ok siete pronte avete 30 secondi per decidere avete già decisa la seconda sfida decidete seconda sfida chi ride per prima bene abbiamo messo il pressi grassa una da una parte una dall'altra chi schierate martina sfidi da micola vai martina contro micola allora chi ride prima perde no no secco riusci a avvicinarti ancora un po michi per favore ok pronte pronte beh anche lei ha dietro le altre emma pronte via hai perso ma ragazze avete vinto ragazzi siete due a zero due a zero siete pronte decidete il prossimo la prossima sfida chi tiene di più la verticale alla parallela bellissimo vai andiamo allora avete capito chi schierate sei pronta o vuoi farlo tu irene va bene l'alletti ok andiamo alla parallela allora l'alletti ha chiesto di fare una prova tu emma non vuoi fare la prova hai detto che avete tre tentativi ok vediamo cosa che ha detto lavora bene con i polsi fate bim bum bam così decide la sorte ma scusa l'altra volta avete fatto decidere tutte le piccole dai fai bim bum bam così decide la sorte e basta dai fai bim bum bam dai fai bim bum bam dai fai bim bum bam dai leti uno due Due secondi per Letty E ancora due tentativi Sì, subito Ancora un tentativo Beh, due secondi è tenuto Lavoro di più con i polsi Piano Una, due Due secondi per Letty Emma Devi battere due secondi Dopodiché avete stracciato le piccole Martina Uno Ma chi è? No, no No, no Stai lì Erma, ferma Brava, va così, va così Ma guarda che roba Allora voi non sentite Sì Sì Mi sa che avete vinto la sfida Emma Le grandi hanno completamente vinto questa sfida Mi dispiace piccole Però dai, la volta scorsa avete vinto voi Quindi le piccole sfidano le grandi Avete vinto voi, giusto? È divertente E adesso hanno vinto loro Speriamo che questo video vi sia piaciuto Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Lasciate tanti like Ricordatevi di attivare la campanella Per ricevere tutte le notifiche dei nostri nuovi video Faddy cosa vuoi dire tu? Ciao 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 Ciao